Sanità, scuola e trasporti, 12 milioni di euro per la Valfino Vestina, che è la seconda area individuata dalla Regione Abruzzo nell'ambito della strategia nazionale delle aree interne avviata dall'ex ministro della coesione Fabrizio Barca. Questa mattina l'assessore alle aree interne Andrea Gerosolimo e il consigliere delegato della Presidenza Luciano Monticelli hanno illustrato la delibera approvata dalla Giunta davanti ai 19 sindaci che fanno parte dell'area Valfino Vestina. In ballo ci sono 12 milioni di euro per il miglioramento dei servizi offerti sul territorio. Inizia un percorso che se tutto va bene, io sono sicuro che tutto andrà bene, ci condurrà alla sottoscrizione dell'APQ io credo nel giro di spero un anno. L'area pilota, il basso Sangrotrigno probabilmente arriverà a sottoscrivere l'APQ entro quest'anno. Io sono convinto che i sindaci come hanno già dimostrato durante questi mesi sapranno raccogliere la sfida perché è una sfida importantissima, non possiamo perdere quest'occasione per le aree interne. Questi fondi serviranno anche a sanare però delle grandi criticità che ci sono? Ma ci sono sul masterplan sì perché per esempio sulle criticità della viabilità la Valfino risolverà un grosso problema perché sia Bisenti, sia Arsita, sicuro la 365 ci sono grossi problemi. Ci sono dei paesi che stanno scomparendo, naturalmente fare un polo scolastico, faccio l'esempio, potrebbe essere il mantenimento dei genitori giovani che vogliono rimanere in quei poli perché non più può reggere un paese dove ci sono una scuola di 10 bambini ma se tre comuni si mettono insieme probabilmente quei 40-50 bambini possono avere una scuola di area.